Riprendiamo la nostra diretta. Dunque, come abbiamo detto all'inizio, quest'oggi ci vogliamo focalizzare su uno degli alimenti, dei cibi più amati dagli italiani, la pizza. Lo vogliamo fare con un testo scritto da un giornalista, collega giornalista e food blogger Luciano Pignataro, la pizza è una storia contemporanea. Speriamo di riuscire a collegarci con il collega Pignataro per parlare di questo libro, ma più in generale della storia della pizza, che è una storia che, come avremo modo di sentire, davvero affonda le radici nei secoli. Dunque avremo modo di ascoltare questi ed altri aspetti del cibo più amato degli italiani dalle parole di Luciano Pignataro appena riusciremo a collegarci. Nel frattempo, Paola, mentre la regia magari ci dà un cenno, vogliamo condividere anche le fotografie. Sono arrivate foto di pizze? Non lo so, vediamo cosa i nostri amici hanno voluto condividere con noi. Magari abbiamo anche dei pizzaioli provetti all'ascolto. Allora, ti do una cattiva notizia, non sono arrivate notizie di... Peccato. Però so che tu in famiglia hai delle persone molto brave a preparare la pizza. Intanto, comunicazione alla regia, in questo momento non posso rispondere, ma il dottor Pignataro mi sta chiamando, quindi possiamo riprovare a chiamarlo con il numero aziendale. Allora, sì, ovviamente le fotografie che sono arrivate sono fotografie di panorami. Ci tengo a sottolinearne una che viene dal monastero domenicano di Hamburgo. Che meraviglia! Saluti è una preghiera per Padre Marciano da parte di Matteo. Grazie. È uno dei tanti messaggi che sono riuscito a recuperare e che in qualche maniera... Ecco, eccolo qui. C'è la neve ad Hamburgo. C'è la neve ad Hamburgo. Come è giusto che sia a gennaio. E poi ancora, Cosenza, una veduta verso il centro storico. Laura, grazie Laura per lo scatto che penso vedremo a breve. Sì, perché credo se stiamo provando a chiamare l'ospite non possiamo mostrare le foto. Benissimo, ok. Allora, è l'ultima foto che è arrivata, è il castello di Burgio di Agrigento. Grazie a Giuseppina. Allora, se la regia ci dà un cenno, non so se abbiamo il dottor Pignataro collegato con noi, altrimenti Paola proseguiamo con l'altro argomento che abbiamo deciso di trattare. Sì, vediamo. Regia, abbiamo novità. Eccolo qui, perfetto. Buongiorno. Buongiorno, dottor Pignataro. Grazie, grazie per essere con noi. Mi sentite? Sì, la sentiamo, lei spero ci senta. Sì, sì, perfetto. Eccoci, buongiorno. Grazie, grazie per essere con noi, l'abbiamo strappata ai suoi impegni, ma davvero ci tenevamo a rendere conto, anche con i nostri amici telespettatori, di quello che è stato definito il cibo più amato dagli italiani. Allora partirei subito dalla prima domanda, come nasce la pizza? Beh, la pizza di Pignataro e Stocche risalgono alla fine del Settecento, quando durante un censimento ordinato dai francesi, che all'epoca occupavano Napoli, emerse che esistevano circa una ventina di pizzaioli. Per la prima volta, ufficialmente, si distinse il ruolo del pizzaiolo dal ruolo di panettiere. Quindi significa che già da parecchio tempo c'erano a Napoli questi forni a bocca di luna specializzati solamente nella cottura della pizza. Chiaramente questa è l'origine ufficiale, poi ci sono, sappiamo bene che un po' ovunque questi piatti da mangiare erano presenti nel Mediterraneo e soprattutto nelle campagne o come prova da forno quando si feceva il pane, oppure come resti di pasta da infornare non sufficienti per una pagnotta, ma per, diciamo, veniva stesa e quindi all'epoca in cui non ci si poteva permettere il lusso di perdere e di buttare cibo, insomma. Quindi queste sono proprio le origini, chi sia stato il primo ovviamente non si sa. Si sa che la prima pizza sicuramente non aveva pomodoro, perché il pomodoro è arrivato di uso comune a Napoli solamente tra, appunto, diciamo viene utilizzato comunemente nell'Ottocento e la prima ricetta con pasta al pomodoro è dell'Ippolito Cavalcanti del 1836, quindi diciamo nasce con un poco di strutto, con un po' di formaggio e poi il pomodoro la rende così buona perché risolve il problema dell'acidità, insomma, e quindi creando questo trinomio perfetto tra il grasso, il formaggio e appunto l'acidità del pomodoro. Ecco, lo abbiamo ricordato, lei ha scritto questo libro edito da Oepli, La pizza, una storia contemporanea, è un libro sempre attuale e ecco la vediamo, vediamo la copertina appunto del suo lavoro. Dottor Pignataro, la pizza per Antonomasi è davvero simbolo di convivialità, di condivisione, vediamoci stasera che ci andiamo a mangiare una pizza, unisce grandi e piccini, poveri e ricchi, a che cosa si deve questo successo, potremmo dire, planetario? Alla sua semplicità, al fatto che è un piatto semplice e buono, è una di quelle cose che è difficile, che non piaccia a qualcuno, un po' come la cioccolata, come lo dico, quindi la pizza è di per sé, con la sua forma sferica, un piatto che invita alla condivisione ed è un piatto della gioia perché sfama, arriva immediatamente al cervello quando si mangia e quindi è questo poi il motivo, anche se all'inizio era soprattutto uno street food che si consumava durante la pausa pranzo oppure sin dalla mattina, poi è diventato soprattutto negli ultimi 20-30 anni un'abitudine collettiva, familiare o di comitivi di amici consumarla, ma diciamo la pizza è anche un alimento molto popolare perché pensi che ci stanno, sono state trovate almeno 200 canzoni che parlano di pizza, alcune addirittura prima del censimento francese di cui vi ho parlato prima, quindi è veramente qualche cosa che nasce e che nella sua antichità trova la modernità perché oggi le abitudini alimentari sono cambiate, nelle grandi città oramai quasi nessuno più si ritira a mangiare l'ora di pranzo e quindi è un pranzo veloce, completo, gustoso ed è anche questo un po' il motivo del suo successo attuale, planetario. Senta dottor Pignataro, stamattina vogliamo fugare un dubbio perché chi mangia la pizza non sa mai se abbinarci il vino o la birra, ora dall'alto della sua competenza cosa suggerirebbe ai nostri amici, ma anche a me in primis? Diciamo che l'abbinamento in genere pizza e birra viene sconsigliato dai nutrizionisti perché inserisce un po' troppo lavoro dei lieviti l'uno nell'altro, io penso che il vero abbinamento debba seguire i propri gusti e oggi sia le birre artigianali che i vini offrono una varietà di scelta incredibile, quindi dipende soprattutto dal gusto personale, insomma su che cosa abbinarci. Ci sta anche chi abbina bibite analcoliche, sicuramente diciamo il vino almeno diciamo per le sue qualità, diciamo tanniche, quindi che assorbono i grassi, costituisce uno degli abbinamenti più adatti, ma ripeto è un'opinione, non è un comandamento. Quindi posso assolutamente confutare l'ipotesi dei miei amici quando vengono a casa perché vogliono birra, io invece presento la bottiglia di vino rosato, che secondo me è la morte sua, come si suol dire. Il rosato poi è un vino polietrico che non a caso sta conoscendo tanto successo, proprio perché è un vino che può accompagnare dall'antipasto fino al dolce, quasi. Quindi sicuramente il vino rosato è uno di quei segmenti di vino molto adatti al consumo di pizza. Faccio un'ultima domanda sempre legata al suo libro in cui racconta anche storie ed aneddoti curiosi e simpatici legati al mondo della pizza. Ne vogliamo condividere uno in particolare se vuole. Ci sono veramente tanti aneddoti che riguardano questa pietanza. Forse il più carino è quello degli ultimi giorni sulla pizza all'ananas che viene rilanciata da uno dei maestri della pizza napoletana che è stato un po' bersagliato sui social, ma alla fine con una lettura un po' più profonda, come dire, ha riaffermato la centralità della pizza tradizionale. Insomma è come quando uno vede un prete con una donna. Dice ma com'è un prete o un carabiniere a rubare? Dice non è possibile. Quindi nel momento in cui si compie questa trasgressione così contrario al ruolo che uno può avere, nel momento in cui uno vede l'alfiere della pizza napoletana fare la pizza all'ananas, dice ma tu stai tradendo te stesso. Ecco, questa è un po' la cosa più divertente. Sì. Qual è, proprio chiudo con una curiosità, che qual è la sua pizza preferita? Io, diciamo, sono molto tradizionalista sulla pizza, nel senso che io amo proprio la marinara, soprattutto che la marinara non sia mai stata così buona come in questi anni, perché la qualità del prodotto pomodoro è talmente migliorata negli ultimi anni che da sola basta reggere la pizza, quindi la marinara con un buon origano fresco, l'aglio di cui io vado particolarmente pazzo, è nella sua semplicità la pizza per eccellenza, ed è la pizza che io preferisco e posso anche dire che quando giriamo per fare le nostre, come si dice, le nostre recensioni, le nostre valutazioni, è sempre la pizza che chiediamo per verificare la capacità del pizzaiolo. Bene, grazie, grazie dottor Pignataro per averci offerto questo spaccato davvero molto interessante sulla pizza. Sì, voglio ringraziare, se mi consentite, la vostra città che ieri mi ha accolto veramente alla grande, il vostro simpatico sindaco, tutti gli assessori, insomma è stata veramente una serata che porterò nel cuore, quindi grazie, grazie anche per l'accoglienza che abbiamo ricevuto, grazie a Orazio Ciapparelli che ha organizzato questa occasione di incontro. E noi l'aspettiamo qui un'altra volta, quando vuole, dottor Pignataro, San Giovanni Rotondo è una città davvero che ha dell'accoglienza, la sua vocazione, per riprendere anche un po' il claim che è stato lanciato in questi giorni per il brand turistico. Grazie, buon lavoro. Buon anno e buona pizza. Grazie.